Eccoci in compagnia di Mattia Mezzadri, responsabile dei veicoli commerciali per Autopiù, Stefar e naturalmente Cisa 2000. Ovviamente. Buongiorno a tutti. Sono lieto di presentarvi il nostro nuovo centro dedicato al veicolo commerciale. Qui abbiamo tutti i tre marchi, Citroen, Opel e Peugeot, che è l'ultimo arrivato da novembre, quindi sono tre mesi e proprio un prodotto fresco che abbiamo. Ci tenevo particolarmente a presentarvi questo nostro centro dedicato esclusivamente ai veicoli professional, con una vasta gamma, perché adesso abbiamo tutto il gruppo PSA, quindi abbiamo Peugeot, Citroen e Opel, quindi una vasta gamma che va dal furgone ai veicoli elestiti. Abbiamo dei venditori specializzati che vi aiuteranno alla vendita, vi daranno consigli a 360 gradi sull'acquisto e sul prodotto giusto per la vostra esigenza, perché, sai, il veicolo da lavoro professional, ci sono tante tipologie, quindi sono proprio venditori dedicati esclusivamente a questo per aiutarvi, supportarvi. Abbiamo noleggio, free to move, del gruppo PSA, quindi facciamo anche noleggi, leasing e finanziamenti dedicati, quindi tutto quello, il tutto il contorno che vi serve a voi per l'acquisto di un bene commerciale, di un furgone. Mattia, direi che avete adesso veramente una gamma talmente completa, avendo questi tre marchi, che assolutamente sarete in grado di soddisfare le esigenze di ogni richiesta per quanto riguarda il lavoro. Assolutamente sì, Rosi, infatti noi siamo qui a completa disposizione, anzi vi aspetto numerosi, così venite a toccare con mano i nostri prodotti e anche provarli. Vi aspetto numerosi, invia Paolo Bovi Campeggi al Civico numero 6, per toccare con mano i nostri prodotti e anche provarli. Abbiamo una vasta scelta di prodotti, quindi dal veicoli allestiti, come vedete uno qua dietro che è un ribaltabile, ai frigoriferi e ai furgoni tradizionali. Dopo passo la parola ai colleghi venditori che vi spiegheranno dettagliatamente il prodotto e le varie offerte che abbiamo in campagna in questo mese. Io vi ringrazio, vi ringrazio Rosi per la sua assolutamente collaborazione e siamo qua, che vi aspettiamo? Buonasera gentili clienti, eccoci davanti alla nostra sede veicoli commerciali, in questo caso Opel. Vi presento un'ampia gamma di prodotti Opel, Opel è in grado di servirvi anche con le trazioni posteriori ruote gemellate, che sono più richieste da chi lavora per esempio in cantieri e ha delle esigenze particolari. Qua davanti a noi abbiamo un bellissimo trilaterale cassone ribaltabile con 3,20 metri di cassone ed è un Movano 2003 turbodiesel 165 cavalli, è un mezzo molto richiesto da imprese edili, però siamo in grado di servirvi anche con le sovrasponde per esempio per chi si occupa di giardinaggio oppure con una centina per chi fa consegne eccetera. Venite a trovarci qui in Bovicampe G6, saremo in grado sicuramente di soddisfare ogni vostra esigenza. A fianco invece possiamo notare un bellissimo Opel combo frigorifero, in questo caso un 0 gradi, però possiamo arrivare anche con ATP a meno 20 senza nessun problema. Per le consegne, chi trasporta materiale deperibile come pesce, frutta, anche pasticceria insomma. Siamo dal pronta consegna alla personalizzazione più assoluta. Vi aspetto, mi chiamo Guglielmo Diamanti, sono qui in Bovicampeggi numero 6, veicoli commerciali per servirvi col prodotto Opel che risponda di più alle vostre esigenze. Ciao, buonasera a tutti, sono Lorenzo Tassi, specialista in veicoli commerciali per Autopiù Citroën in Bologna. Questa sera sono qui a parlarvi, a presentarvi nella nostra gamma di veicoli commerciali, nel nostro nuovo business center dedicato a tutta la gamma PSA. Questa sera voglio focalizzarmi sullo stock di veicoli commerciali già allestiti che abbiamo, veicoli già allestiti sul telaio del jumper, il nostro veicolo commerciale più grande e anche più versatile. Abbiamo a disposizione i mezzi con le tecnologie più recenti presenti sul mercato, con i dispositivi antinquinamento quindi che vi evitano blocchi del traffico piuttosto che sanzioni e fermi dei vostri veicoli, dato che abbiamo tutta la gamma già disponibile con gli ecologici diesel Euro 6.2, motori dai 2.0 e 2.0 di cilindrata con potenze che vanno dai 120 ai 165 cavalli, con i corsi di gestione più bassi del segmento, dato che comunque basti pensare che fanno gli interventi di manutenzione ordinaria ogni 50.000 km oppure ogni due anni, queste sono le raccomandazioni di casa madre, proprio per darvi i migliori costi di gestione proprio per la gestione della vostra flotta aziendale. Tutti questi mezzi possono essere vostri con il leasing o col finanziamento banca PSA, con tasso 2,99 fisso, con durata a fine 5 anni, con possibilità di modulare la rata piuttosto che il canone finanziario, con l'aggiunta di servizi assicurativi, piuttosto che piani di manutenzione o anche polizze RCA per darvi un canone che sia ondicomprensivo e darvi la certezza del costo legato all'utilizzo del vostro veicolo. Naturalmente vi ricordo che abbiamo a disposizione a stock anche gli altri veicoli, quindi i classici fuggoni lamierati, piuttosto che il berlingo, piuttosto che il jumpy, piuttosto che l'EC3, perché anche l'EC3 esiste nella versione autocarro a due o quattro posti, che si chiama combi, ma anche tutta la gamma autovetture può essere trasformata. Naturalmente io vi aspetto qui in nuovi campeggi, piuttosto che anche presso le vostre sedi, chiamatemi e chiamateci, organizziamo un appuntamento, un sopraluogo presso le vostre sedi per valutare le vostre permute, per vedere quelle che sono le vostre esigenze e di conseguenza a me non mi resta che augurarvi una buona serata, mi raccomando fatturate perché bisogna farla girare questa economia. Buona serata Peugeot Veicoli Commerciali, lo trovate in via Bovicampeggi 6, con tutta la gamma a disposizione. Ecco che siamo nella nostra showroom di Bovicampeggi, dove abbiamo esposto anche i brand con le varie possibilità di servirvi e ci spostiamo verso un partner della Peugeot, che è un prodotto abbastanza di punta, abbastanza richiesto e ve ne voglio parlare perché Peugeot, a differenza di molti altri brand, colpisce per la sua estetica fantastica. Abbiamo un musetto aggressivo delineato da un taglio fanale molto particolare e se andiamo sugli interni di questo Peugeot Partner Premium troviamo un allestimento interno quasi automobilistico. Abbiamo un volante piccolino con un'impugnatura stradale, un cruscotto rialzato che ci permette di apprezzare a pieno le velocità che noi facciamo. Un bel quadro strumenti che può essere con infotrattenimento o addirittura la retro telecamera. All'interno abbiamo tre comodi posti, con il posto centrale che può diventare porta computer e il posto laterale che può contenere carichi lunghi oltre i tre metri. Di questo oggetto abbiamo due dimensioni, la versione normale come questa che ha un carico di 180 cm e la versione lunga che può arrivare fino a 2,1 metri di capiezza eterna. Quindi abbastanza capiente per poter contenere tutti i nostri trasporti. È molto curato, Peugeot cura particolarmente il proprio prodotto. Infatti al suo interno troviamo il pianale in plastica per non graffiare il pianale, troviamo la sua porta laterale e un carico molto ampio. Vi invito a venirci a trovare in Bovicampeggi numero 6 perché oltre che il partner premium che stiamo guardando abbiamo tutta la gamma, abbiamo il Box, abbiamo diversi prodotti Peugeot da poter soddisfare le vostre esigenze più sparate. Su Box arriviamo anche a L3H2, L4H2, quindi su degli oggetti molto molto ingombranti che possono contenere dei trasporti importanti. Io mi chiamo Guglielmo Diamanti, sono qua per servirvi con Peugeot, vi aspetto numerosi. Da un punto di vista finanziario il momento è ottimo perché abbiamo dei tassi abbastanza abbordabili, intorno al 2,99%, l'ammortamento previsto in 48-60 mesi, siamo in grado di servirvi sia con finanziamenti che con leasing e noleggio anche a lungo termine. Vi aspetto a Bologna in Bovicampeggi numero 6, vi aspetto numerosi, così insieme potrò soddisfare le vostre esigenze con tantissimi pronta consegna o qualche ordine specifico per le esigenze specifiche. Grazie, vi aspetto numerosi, a presto. Alessandro Suppini, Stefanelli Rent. Il nuovo marchio DS ha sferrato l'offensiva per imporsi nel mercato dei SUV compatti con una gamma di motorizzazioni veramente completa, dalle elettriche alle diesel, dalle benzine alle ibride plug-in. Partiamo dalla nuova bellissima DS3 Crossback So Chic che vi ho selezionato in motorizzazione di diesel da 28 km con un litro. Oltre ad una linea veramente bella e personale, abbina gli interni che esprimono il vero lusso alla francese. Potete guidarla con 329 euro più IVA al mese con manutenzione e casco completa. Fra le offerte che potete consultare sul nostro sito stefanellirent.it vi ho selezionato la DS7 E-Tense, 4 ruote motrici e fino a 300 CV. Passate dalla modalità Hybrid alla modalità Elettrica con un click. Un concentrato di potenza, bellezza e tecnologia. Potete guidare il futuro con soli 537 euro più IVA al mese con manutenzione e casco completa. Opel Crossland X è il SUV compatto del momento. Spazio, dotazione, finiture e motorizzazioni efficienti. Questa è una delle serie speciali 120esimo anniversario con il motore a benzina interamente in alluminio. La puoi guidare con 206 euro al mese con tutte le manutenzioni e la casco completa. E allora, cosa aspetti? Fra le offerte che potete consultare sul nostro sito stefanellirent.it vi presento il futuro. Ibrida, plug-in, 4 ruote motrici, 3 motori e 300 CV. Docili, docili da sfruttare in tutte le situazioni. E' la Grandland X Hybrid. Viene a noleggiarla con 408 euro al mese con tutte le manutenzioni e la casco completa. Una vettura da guidare, un autocar da scaricare. Le aziende che usano la vettura per lavoro e non vogliono un furgone, da oggi possono scegliere questa bellissima Citroen C3 Aircross Phil N1. E possono scegliere anche di noleggiarla a soli 271 euro al mese con manutenzione e casco completa. Fra le offerte che trovate sul nostro sito stefanellirent.it non poteva mancare la vettura di maggior successo di casa Citroen, la C3 in versione Phil con il motore 1.283 CV guidabile anche da neopatentati. La potete noleggiare a 183 euro al mese con manutenzione e casco completa. I salassi assicurativi saranno solo un ricordo. Vi aspettiamo in via Bentini 111 a Bologna per accompagnarvi nel mondo del noleggio a lungo termine. Questa è la GLB. Mercedes ha voluto completare la sua offerta di SUV con questo nuovo splendido modello. Questa è una delle vetture di lancio in allestimento premium con la motorizzazione 200 diesel. Potete noleggiare il nuovo gioiello di casa Mercedes con soli 475 euro al mese con manutenzione e casco completa. Vi consiglio di venire a provare la nuova classe A250 EQ Power, una ibrida plug-in con un motore da 75 km a 0 emissioni e un motore 1.3 a benzina e ibrido da 160 CV. Il futuro è già arrivato. Guidalo con soli 370 euro al mese con manutenzione e casco completa. Peugeot vuol conquistare il mercato dei SUV compatti con la nuova bellissima 2008. Spaziosa, tecnologica e bella da impazzire. La Active con il motore a benzina da 100 CV potete guidarla con soli 239 euro al mese con tutte le manutenzioni e la casco completa. Se vi piace di più questa versione, la Lure, la potete guidare con soli 23 euro in più al mese. Fra le offerte che trovate sul nostro sito stefanellirent.it vi segnalo la nuova 508 Station Wagon. Ideale per chi cerca stabilità e comfort nei lunghi viaggi e tanto tanto spazio. Con il motore diesel da 130 CV con il nuovo cambio automatico a 8 marce, ve la offriamo a 399 euro al mese con tutte le manutenzioni e la casco completa. Vi aspetto in via Bentini 111 a Bologna per accompagnarvi nel mondo del noleggio a lungo termine. Alessandro Suppini e Sefanelli Rente, la vita è già abbastanza complicata ma il noleggio te la semplifica.